La ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal gruppo predicazione e liturgia delle chiese valdesi del primo circuito. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e benvenute a questo momento di culto. Oggi, in occasione della domenica dei predicatori e delle predicatrici locali, il culto è realizzato a cura dal gruppo liturgia e predicazione delle chiese valdesi del primo circuito. Vogliamo iniziare il nostro culto leggendo all'inizio del Salmo 25. A te, oh Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. Oh Signore, fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami. Poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in te ogni giorno. Ricordati, oh Signore, delle tue compassioni e della tua bontà perché sono eterne. Ci vogliamo raccolgere in preghiera. Signore, Dio nostro, la tua parola ci raggiunge oggi nelle nostre case e ci avvolge come un soffice mantello che ci fa sentire accuditi e accompagnate. Di questo, Signore, ti lodiamo. La tua parola ci raggiunge e noi vogliamo riceverla, come dice il salmista, per seguire le tue vie e conoscere i tuoi sentieri, nonostante spesso siamo incapaci di coglierne il senso profondo e ci portiamo dietro il nostro carico di preconcetti. Di questo, Signore, ti chiediamo perdono. La tua parola ci raggiunge e noi vogliamo affidarci a te nell'ascolto, lasciarci incontrare là dove siamo, affinché possiamo lasciarla fluire in noi come una fonte d'acqua viva che ci purifica e ci dona la rinascita, quella che tu hai reso possibile in Gesù Cristo, nostro Salvatore. Di questo ti ringraziamo. Signore, Dio nostro, a te eleviamo l'anima nostra, in te confidiamo. Sii con noi sempre, accompagni i nostri passi. Amen. A me non c'è per te, a me non c'è per te, a me non c'è per te. E' molto più signore, amica anche per te, è risolto il salvatore, ti chiama con amore, non aspettare più, rispondigli, rispondigli, rispondigli di sì. E' come un fuoco in te, quest'amore si diffonde, e pensa ad altri che, sono primi del suo amore, racconta ad altri ancora, cose Gesù per te. Ed ora tu, sì proprio, racconta del suo amore. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, dal capitolo 3, i versetti da 1 a 8. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse, «Rabbì, noi sappiamo che sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose, «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse, «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose, «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito». Nascere di nuovo, nascere dall'alto, rinascere, per poter vedere ed entrare nel regno di Dio. In questo tema ci immerge l'ascolto del dialogo tra Gesù e Nicodemo. Di fronte al dubbio di Nicodemo sul come questa rinascita possa realizzarsi, Gesù indica la via della nascita nello spirito di quel Dio del quale è parola. Come possiamo intendere noi ascoltatori e ascoltatrici della parola letta oggi l'invito di Gesù? Desideriamo condividere con voi tre spunti di riflessione su questo episodio tratto dal Vangelo di Giovanni. In cammino con me c'è uno spirito che scorre, spirito che non mi lascia mai. In cammino con me questo spirito che scorre, resterà con me finché vivrò. In cammino con me questo spirito e amore che scorre, resterà sempre con me. Care sorelle e cari fratelli, Nicodemo è curioso. È una buona cosa essere curiosi, al contrario di quel che si pensa solitamente. La parola curioso deriva dal latino curiosus, che si prende cura, desideroso di sapere, di conoscere, di vedere e di sentire. Nicodemo è andato da Gesù, di notte, per conoscere e capire. E non è riuscito a capire, malgrado il suo interesse e malgrado fosse un maestro della legge, una persona istruita. Gesù parla di rinascita, di carne, di acqua e di spirito, di vento che soffia dove vuole. E Nicodemo non capisce. Non riesce a capire, è come soffocato dal suo mur di sapienza, di leggi, di abitudini, tanto che non comprende. Ma se la parola curioso significa che si prende cura, allora possiamo tranquillamente dire che sia Dio sia Gesù sono curiosi, molto curiosi. Da millenni si prendono cura di un'umanità che spesso non capisce, che non risponde, e che si rinchiude dentro muri di finte sicurezze, di grandi sofferenze, di paure e quant'altro. Una umanità poco curiosa, ma l'umanità di natura è curiosa. Pensiamo ai bambini. Guai se non fossero curiosi. È la loro naturale curiosità che li spinge a conoscere, a esplorare, a imparare, a crescere, a fare amicizie e ad andare incontro al mondo, superando le paure, abbattendo i loro piccoli e grandi muri. Nicodemo, andando da Gesù, ha aperto una breccia nel suo muro. Il suo essere curioso gli ha permesso di superare il timore, di osare, tanto che si prenderà cura di difendere Gesù quando i farisei vorranno arrestarlo e si prenderà cura del suo corpo dopo la crocifissione. Credo che aver cura del prossimo, dell'umanità, degli animali, della terra, e cioè l'aver cura di quel creato che il Signore ci ha affidato, sia un qualcosa di innato che è già in noi. È l'essere curiosi come bambini. E noi tutti siamo stati bambini. Dovremmo imparare a rimanere un po' bambini e vivere e crescere, coltivando la vera essenza dell'essere curiosi. L'aver cura, ognuno secondo i propri doni, accompagnati da quel vento che non si sa da dove arrivi e dove vada, che si infila nelle brecce dei muri e alle volte ci sfiora, alle volte ci accarezza o ci avvolge. In cammino con me c'è uno spirito che gioca, spirito che non mi lascia mai. In cammino con me questo spirito che gioca, resterà con me finché vivrò. In cammino con me questo spirito è una festa che gioca e resterà sempre con me. Io vorrei soffermarmi su un altro significato di rinascere in spirito, guardare il mondo con occhi nuovi. Fratelli e sorelle, rinascere in spirito vuole anche dire guardare il mondo con occhi ispirati dall'amore di Dio. È un invito a cambiare punto di vista, a leggere le situazioni e le persone lasciandosi ispirare dallo spirito di Dio e scoprire così che possono essere differenti da come le vedevamo, da come le percepivamo. Credo che a tutti noi sia capitato di guardare le persone e di vederle in un certo modo, poi, per vari motivi, conoscerle in modo più approfondito e scoprire che dietro a ogni loro gesto, anche quelli che ci infastidivano, c'è semplicemente una persona con la sua vita e le sue emozioni. E quindi, conoscendola meglio, la apprezziamo anche di più. Bene, cogliamo l'invito di Gesù e lasciamoci muovere dallo spirito d'amore che proviene da Dio e guardiamo il mondo con occhi diversi. Guardiamo oltre le apparenze e senza giudizio e riconosceremo nel viso di ogni fratello, di ogni sorella, un figlio e una figlia che Dio ama, che Dio ama quanto ama noi. Non congeliamo il nostro sguardo sugli errori e sulle scorrettezze che abbiamo ricevuto o che abbiamo visto, ma guardiamo oltre, guardiamo alle persone e al valore che queste hanno per Dio. Il vicino di casa non è soltanto colui o colei che fa rumore o che non sopporta i nostri rumori. perché dunque continuare a vederlo e a narrarlo solo così? Il collega di lavoro non è soltanto colui o colei che fa di tutto per apparire migliori di noi. Perché allora pensarlo e raccontarlo così? Così come il fratello o la sorella di comunità non è solo colui o colei che non fa le cose che tu vorresti. perché allora non lo osserviamo in un altro modo da un altro punto di vista. Proviamo, fratelli e sorelle, a guardare il mondo con uno sguardo diverso e a sorprenderci scoprendo quanti miracoli potrebbero avvenire. Come quando, camminando in montagna, guardiamo il panorama da un altro punto e ci sembra tutto diverso. Lo sguardo, poi, non è fine a se stesso. Determina i pensieri. Sia in chi guarda, sia in chi riceve lo sguardo. Lo sanno bene i bambini, i neonati che ricevono gli sguardi amorevoli dei genitori. Lo sanno bene gli innamorati. Gesù rivolge a Nicodemo e a tutti noi un invito alla conversione, a vivere non più solo per se stessi e se stesse, ma per gli altri. Lancia un invito a lasciarci coinvolgere e farci guidare dagli occhi dello Spirito. Ma quindi dobbiamo tollerare tutto quanto? Dobbiamo sopportare soprusi e ingiustizie guardando oltre? No, di certo, fratelli e sorelle. Le ingiustizie vanno denunciate e combattute e i torti vanno fermati. Ricordandoci, però, di non lasciare il fermo immagine su di essi, ma cercando sempre un nuovo punto da cui guardare, un nuovo scorcio di ciò che abbiamo di fronte, in modo da permettere allo Spirito di operare in noi e in chi sta intorno a noi. In cammino con me c'è uno Spirito che cresce, Spirito che non mi lascia mai. In cammino con me questo Spirito che cresce, resterà con me finché vivrò. In cammino con me questo Spirito e speranza che crescere e resterà sempre con me. Carissime e carissimi, ecco un altro spunto di riflessione circa il significato di rinascita partendo dall'incontro tra Gesù e Nicodemo. Rinascita significa anche accoglimento ed accettazione pura, genuina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per fede con semplicità ed innocenza. Certo, noi siamo già nati nello Spirito Santo perché siamo stati battezzati. Abbiamo già fatto la nostra scelta di Dio, della vita e della luce. rinascere quindi per noi può significare rinnovare ogni giorno il nostro battesimo, cercare, ascoltare lo Spirito ogni giorno, oggi, adesso, domani, dopodomani e così via, rinnovando quotidianamente la nostra promessa, la nostra scelta. Io oserei dire anche che noi come cristiani dovremmo rinascere ogni giorno nella fede e nella speranza. Dio, infatti, ci parla tutti i giorni, ci parla ora come ci ha parlato ieri e ci parlerà anche domani. Sta a noi saperlo ascoltare, il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore ma non sai né da dove né dove va. Così cita il versetto 8 che abbiamo appena letto. Ed è proprio la fede che ci libera, che ci salva e che ci dà la speranza di un domani migliore. io ora vorrei rendervi partecipi di una mia recentissima esperienza molto, molto significativa. Il viaggio che ho compiuto con il treno della memoria a Cracovia con visita ai campi di Auschwitz e di Birkenau, ripercorrendo e visitando i luoghi dove si compì forse la più buia pagina dell'umanità dove l'intera umanità morì assieme ai 6 milioni di ebrei dove non vi era più nulla se non un infinito dolore un'infinita sofferenza e morte. Nello specifico vi volevo raccontare la vicenda di padre Massimiliano Maria Colbe forse molti di voi la conosceranno già. Padre Colbe era un francescano polacco che nel 1941 fu rinchiuso ad Auschwitz e si ritrovò di fronte a quelle assurde e crudelissime decimazioni che avvenivano dopo un tentativo di fuga da parte di un prigioniero. Ebbene la sorte volle che padre Colbe non fosse scelto tra i dieci che dovevano morire ma fu scelto il suo vicino un uomo di nome Franziskez il quale scoppiò a piangere e pregò il comando dell'ESS di lasciarlo in vita perché era padre e aveva dei figli. ebbene padre Colbe propose loro uno scambio tra quest'uomo e lui stesso. L'unicità e la bontà del gesto destabilizzò la fermezza delle regole dell'ESS e lo scambio venne accettato. Fu così che padre Colbe venne rinchiuso nelle prigioni del famigerato blocco 11 che al piano interrato nell'oscurità ospitava le celle dove i prigionieri venivano fatti morire di stenti di fame e di sete costipati in un numero tale da non permetter loro neanche lo sdraiarsi a terra. Alcune di queste celle che sono ancora visibili ad Auschwitz avevano una superficie di neanche un metro quadrato senza finestre con una portina così piccola che per entrare bisognava andare a Carponi ebbene in queste celle magari rinchiudevano anche quattro cinque persone che non potevano neanche sedersi. padre Colpe patì per diversi giorni e sopravvisse a quella tortura nella cella ma poi venne comunque ucciso da un'iniezione letale e invece il signor Franzisques sopravvisse al campo campo di sterminio e tornò dopo la guerra in patria da sua moglie. bene credo che le parole siano superflue perché le emozioni di ciascuno di noi parlano ai nostri cuori e alle nostre anime. Padre Colpe quel giorno scelse di rinascere nella fede scelse la vita la luce scelse il padre il figlio e lo spirito santo donando la speranza di vita all'altro prigioniero. Bene cari fratelli e care sorelle nel nostro piccolo credo che ognuno di noi debba rinascere ogni giorno nella fede scegliamo quindi la luce scegliamo la vita consapevoli che anche nell'oscurità più profonde dei nostri dolori la luce della speranza e della fede brilla. Gesù dirà alla fine del nostro capitolo perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Amen verso il regno di Dio mio principio e mio destino è la strada che percorro già in cammino con me il tuo spirito mi affianca verso il regno che conosco già in cammino con me verso il regno del Signore che aspetto che conosco e che verrà preghiamo preghiamo ti preghiamo o Signore Gesù Cristo perché rinnovati nel tuo battesimo possiamo rinascere continuamente come creature del Padre tuo e Padre nostro e portare nelle nostre vite per mezzo del tuo spirito la tua testimonianza di fede nel Padre e di amore per noi ti preghiamo o Dio nostro Padre affinché il tuo spirito santo rinnovi il nostro punto di vista sul mondo e ci faccia avvolgere lo sguardo sulle ingiustizie sociali che lo attraversano sulle violenze e le guerre che lo insanguinano sullo scarso rispetto per l'ambiente che lo feriscono con un atteggiamento ed un impegno ispirato al tuo amore incondizionato rivelatoci da Gesù Cristo tuo figlio ti preghiamo o Signore che sei Padre Figlio e Spirito Santo risveglia in noi quello spirito curioso del mondo e di chi lo abita sostiene in noi l'apertura verso il confronto con gli altri e le altre aiutaci nel superare le paure di abbandonare le nostre sicurezze e in tutto questo rendici sempre più consapevoli di essere noi semplici testimoni della tua parola Amen di un'altra e l'altra che è la tua morire rile' Il cuore regna e sia fatto, Signore, come in Cielo il tuo volere qua giù. Oggi il pan quotidiano ci dona e le offese diventi ciancòi, come agnuno gli toglie perdonare al fratello che gli è delito. Il cuore regna e sia fatto, Signore, come in Cielo il tuo volere qua giù. Il cuore regna e sia fatto, Signore, come in Cielo il tuo volere qua giù. Essere completi di acqua, carne e spirito ed eredi del regno di Dio. Chiediamo in preghiera al Signore di vegliare su ognuno di noi e andiamo in pace, ricevendo la benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal gruppo predicazione e liturgia delle chiese valdesi del primo circuito.